C'è un momento nella vita di ogni uomo in cui bisogna ammettere la sconfitta. Devi accettare di aver perso. Nonostante giorni, settimane o mesi di studio o allenamento, all'improvviso qualcosa va male e in un batter d'occhio ti ritrovi a non essere più il campione. Quella sensazione di tristezza, un evento così traumatico, fa scattare qualcosa. Una forza, dentro, una voce che ti spinge ad andare avanti. L'imperativo a non arrendersi mai, a rialzarsi sempre. La sconfitta diventa un'ispirazione. L'allenamento ora ha un obiettivo tangibile. Perdere ti ha solo reso più forte. Ora sei pronto a vincere. Ora, finalmente, hai una nuova possibilità. La sconfitta diventa un'ispirata. Grazie.